E' un simbolo, noi abbiamo deciso di fare questo investimento per recuperare il teatro perché proprio qui a Forcelli questo teatro non è soltanto un luogo per fare spettacoli ma anche un luogo di aggregazione delle famiglie, dei ragazzi. Credo che 7-8 mesi fa abbiamo fatto un giro, una passeggiata qui con Nino D'Angelo e abbiamo verificato la partecipazione delle famiglie anche alla produzione di attività teatrali. Quindi questo teatro andava riaperto innanzitutto come luogo di aggregazione dei giovani di Forcelli, poi come luogo di produzione teatrale. E quindi siamo particolarmente soddisfatti di poter riavviare questa attività di programmazione culturale. Credo che a novembre partiremo, abbiamo bruciato i tempi per far lavorare l'azienda anche ad agosto e insomma credo che saremo pronti a ridare a Forcelli il principale luogo di aggregazione.